Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo cortissimo video dove ci tenevo a fare e a dirvi un paio di cose La prima è ovviamente Buon Natale signori miei Buon Natale, uscirà un video alle 4 e mezza questo pomeriggio Mi sono dimenticato di dirvelo in quell'occasione quindi ve lo dico con questo brevissimo video Vi auguro una vigilia passata con la vostra famiglia e anche un Natale ovviamente passato con la vostra famiglia Proprio per questo un'altra cosa che volevo dirvi è che il 25 sia il giorno di Natale non usciranno video Perché uno voi non lo guardereste e ci terrei che non lo guardiate nel caso ci fosse stato Perché il Natale va passato con la famiglia e non davanti a uno schermo non su Youtube E inoltre ovviamente anch'io voglio passare il Natale in compagnia dei miei parenti e tutti insieme e ottenere i cash E quindi nulla non ci saranno video il giorno di Natale In compenso signori miei la terza cosa che volevo dirvi è che ci sarà una live sul canale di Luke quest'oggi Ora non so ancora esattamente l'orario dovrebbe essere tra le 2 e mezza e le 3 E quindi mi raccomando passate dal suo canale che troverete in descrizione come al solito Per assistere a una live diciamo di Natale ecco Insomma finita la live poi ci sarà il video delle 4 e mezza Mi raccomando guardatelo perché penso che sia abbastanza interessante Questo video è scrausissimo l'ho fatto veramente velocissimo E ancora buon Natale Buon anno probabilmente perché non so se farò in tempo O se mi ricorderò semplicemente di farvi gli auguri In un video a parte per Capodanno E nulla noi ci becchiamo Ci becchiamo Ci becchiamo Santo Stefano Oppure in live per chi ci fosse LOL The innocent can never last Wake me up E nulla noi ci becchiamo 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 E nulla noi ci becchiamo